Il Pop Festival è un festival di musica indipendente, a caratura anche internazionale, avendo ospite una band tedesca con membri dell'Alipune e Notwist, che sono due band molto importanti dagli anni 90 ad oggi. Si svolge al Teatro dei Bottoni a Vismara, sabato 4, dalle 21.30. Le band che suonano, l'headliner, sono i Saros, che sono questo gruppo che fa Inditronica con componenti dell'Alipune e Notwist, che sono due band molto più grosse che hanno un po' scritto la musica Inditronica dagli anni 90 ad oggi. Poi abbiamo una band locale, che sono i Fatsons, che anche loro hanno dei dischi alle spalle, DJ Minaccia di Fano, che fa anche lui musica elettronica, e un ospite di Modena, che è Goodbye Horses, che ha già suonato a Pesaro più volte per noi con i nostri festival e abbiamo pensato di rinvitarlo. Il gruppo nasce ufficialmente nel 2004, con me, Mirko e Toto, comunque eravamo tutti gli amici che frequentavamo il negozio di dischi plastic. Abbiamo fatto un sacco di cose in posti più strani, sempre e comunque privilegiando la musica indipendente, quella che non viene definita mainstream. E poi, come tutte le cose, Belle un po' va a finire nelle sotterranie, e finisce lì nel cassetto. E l'abbiamo ritratta fuori l'anno scorso, dopo che abbiamo pensato di omaggiare Mirko e Guagno, due nostri amici che abbiamo perso per due motivi diversi nel 2020. Abbiamo pensato di omaggiarli formando il pop gruppo, portando avanti il loro lavoro, che era quello di fare concerti, live e quant'altro, insieme agli amici di sempre, quindi che sono poi i ragazzi lì.